...questa meravigliosa piazza, piazza Vittorio Emanuele qui a Rovigo. Buonasera, 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 fatemi sentire! Devo giocare, cucinare, stirare, lavare, camminare con i tacchi per farmi guardare, rettinarmi bene, muovere il sedere, giocare con i trucchi per crescere bene. Giocare, cucinare, stirare, lavare, camminare con i tacchi per farmi guardare, rettinarmi bene, muovere il sedere, giocare con i trucchi per crescere bene. Voglio diventare astrofisica spaziale, musicista militare, non si può fare, no, non si può fare. Voglio diventare un fiorista parrucchiere, ballerino, toccatore. No, non si può fare, no, non si può fare. Devo giocare, scrutare, costruire, sparare, esser sempre più forte per poter comandare, guidare veloce, riparare le cose, dimostrare a tutti quanti quanto sono capace. Giocare, scrutare, costruire, sparare, esser sempre più forte per poter comandare, guidare veloce, riparare le cose, dimostrare a tutti quanti quanto sono capace. Chi non decide chi, chi non decide chi, chi non decide chi siamo. Chi non decide chi, chi non decide chi, chi non decide chi siamo. Chi non decide chi, 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 chi non decide chi. Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Grazie per la visione!